Possiamo procedere con l'MV numero 1 portato da Letizia E c'è anche da dire che ogni partecipante ha dato una descrizione per partecipare Quindi noi comunque vi diremo anche di cosa tratta, cosa l'autore ha voluto comunicare L'idea, l'ispirazione che ci ha preso nel video Eccetera, quindi Letizia Spesso la separazione non ha una sola forma La separazione è di due innamorati che abitano in città lontane Il sacrificarsi per i propri amici o il dovere di lasciare il proprio nido o i propri cari Non sei solo, loro saranno sempre nel tuo cuore Anche se non potrai toccarli immaterialmente Ma sentirai sempre la loro presenza ovunque tu vada E allora vediamo il numero 1, Letizia E allora vediamo il numero 1, Letizia E allora io e i propri amici Guarda te Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pochissimo, poi dovremmo farsi sentire. Passo al secondo video, realizzato da Leonardo.